Voglio ringraziare il Signore per questo tempo di servizio alla Chiesa Cattolica attraverso la dirigenza della Fraternità Cattolica delle Comunità Carismatiche, che ha sede al Palazzo San Calisto in Vaticano, per questo lungo periodo in cui ho avuto la possibilità di conoscere questa meravigliosa esperienza delle comunità carismatiche. Sono lieto anche del contatto che mi ha permesso con numerose realtà come movimenti ecclesiali, nuove comunità e soprattutto con il Pontificio Consiglio dei Laici, che si è occupato in questi anni di sorreggere l'Apostolato della Catholic Fraternity. Il mio augurio è che si possa avere una continuità dei benefici, dei frutti spirituali apostolici che la Fraternità Cattolica ha ricevuto così abbondantemente in questi ultimi dieci anni in cui io sono stato a suo servizio.